Ci sono altre tre entità piuttosto complicate. Sono entità di difficile descrizione perché non hanno corpi. Il lux è l'inventore di un processo mentale fondamentale che ha distrutto la capacità creativa dell'essere umano che è la religione. Il lux è l'inventore delle religioni. Il lux è l'inventore, il fruitore dell'istinto di colpa. Ti fa sempre sentire in colpa. Non hanno corpo. Già, tutti gli addotti descrivono uno strano bambino piccolo, tutto luminoso, che sembra una fiammellina quando si muove e lo vedi nella stanza al buio perché lui entra in qualche modo nel tuo ambiente ed interagisce con te. Ha gli occhi neri molto più scuri e anche un accenno di unghie, se così si può dire. Comunque la punta di quelle che dovrebbero essere le dita sono più scure. Questo parassita ha la caratteristica di stare nella tua testa e se tu non sei cosciente di questo, farti credere che lui serve a te, farti credere che lui è la voce interna del tuo angelo custode, farti credere che è importante che tu collabori con lui perché senza di lui tu non saresti nessuno. Ti riduce uno zombie mentale. Prima di tutto lui cerca di nascondersi, di farti credere che i pensieri che lui ti induce, che lui ti trasmette sono i tuoi pensieri perché chiaramente non ha nessun interesse a rendersi, diciamo, visibile. Questo bambinello che sarà alto, come al solito, un metro e dieci, un metro, un metro e venti, sembra un bambino fatto di luce. Quando si muove invece i contorni si confondono completamente e non si capisce che cos'è, una creatura luminosa. Questa creatura luminosa tende, durante la descrizione delle adduzioni, a fare questo, a venirti sempre più vicino, sempre più vicino, sempre più vicino e mano a mano che diventa più vicino tu senti un forte sbalzo, battuta qui al plesso solare. Tu! E quando hai sentito questo, tu sai inconsciamente che l'essere è entrato dentro di te. L'avevo già mandato via e a una notte mi sono svegliata con la sensazione come se stessi uscendo dal corpo. Però io non volevo farlo, quindi era una sensazione fastidiosa. E c'era questo... nell'angolo... nell'angolo in alto a sinistra della stanza in alto c'era questa sagoma umana di un colore rosso abbastanza scuro come quelle immagini della tv che sono tutte a puntini, una cosa del genere. ed era lui che mi diceva che, insomma, aveva bisogno di entrare. E chiaramente io gli ho detto, no, non entri, non mi dispiace, ma non... Eh no, ma io ho bisogno, devo entrare, perché altrimenti che fine faccio? E gli ho detto, non sono problemi miei, che fine fai? Per cui c'è stata questa, diciamo, questa lotta. Mi sentivo proprio tirare verso l'alto, no? Come se avesse bisogno, non lo so, di farmi uscire dal corpo per poi infilarsi, non ho idea. Però vabbè, alla fine non ci è riuscito, quindi si è rimpicciolito, è diventato sempre più piccolo e poi è sparito. Dalle centinaia di informazioni che, per quanto piccole, a gocce, ci siano pervenute, noi possiamo dire questo. Questo essere è un essere che viene non proprio da questo spazio-tempo, da un'altra parte, dove quindi non ha un corpo. E questo essere non si può più riprodurre, ha bisogno di energia e quindi la prende, come un parassita, dall'essere umano che invece è qualcosa di ancora un po' più primordiale, ma comunque un essere molto più vitale di questo lux. Ci sono parassiti alieni, che qui potremmo chiamare fantasmi, quello che ti pare, ma sono alieni e sono entità aliene, non sono forme di vita fisiche, ma entità aliene che da quello che ti dicono loro si scibano di queste cose, delle nostre emozioni. Inoltre il lux è il pezzo, in realtà, di un essere gigantesco, fatto di tanti lux, un lux gigante. La loro civiltà è come quella delle api, dove comanda l'alveare, tutto insieme. L'alveare è l'ape. L'ape piccola, in realtà, non conta niente. I diversi lux sono i pezzi di un'unica bestia gigantesca e il lux viene, ti prende l'energia, e come avesse una specie di contenitore, la va a portare alla grande famiglia dei lux. E tutti i lux dell'universo fanno questo, per alimentare un unico essere gigante, che è la forma luminosa. Questa forma luminosa non si può riprodurre. è la forma luminosa che non si può riprodurre.